Musica Mi ha appassionato l'uso delle macchine, dell'escavatore, del camion E allora da quello ho iniziato quasi per gioco e poi alla fine si va avanti Se oggi tu potessi dire qualcosa a tuo padre, cosa gli diresti? Lo ringrazierei per quello che ha creato e mi farebbe piacere che vede che noi stiamo andando avanti allo stesso modo Continuare nel rinnovo delle attrezzature per poter fare un lavoro di qualità migliore in tempi magari brevi Con attrezzature sempre all'avanguardia è una cosa che già aveva intrapreso lui E' una cosa che mi piacerebbe portare avanti Lui anche le cose magari un po' più difficili le riusciva a fare senza sembrare che costava il peso Lo facciava tranquillamente e poi aveva una costanza Senti qualche tirata d'orecchie, qualche schiaffone di caldo? No, schiaffone no, però se hai riprese sugli errori è normale Che all'inizio ti pesano quando ti vengono dette Soprattutto dal papà si accettano poco all'inizio Purtroppo è così, dopo si capiscono ma si capiscono dopo